Quando ha visto quelle sue foto pubblicate da tutti, le foto del matrimonio, le foto che effetto le ha fatto? Hai visto divertire? Ma noi non le abbiamo pubblicate, non le divertenti. No, no, che effetto le ha fatto sinceramente? Perché erano nel suo sito? Sì, ma era un sito del 99, stiamo parlando di 14 anni fa, che non era pubblicizzato, ma era fatto esclusivamente per... Giusto per spiegarci, io abitavo a Brescia, siamo sposati a Roma, io sono originario di Palermo, mia moglie è bolognese con i genitori abruzzesi, abbiamo organizzato un matrimonio... E questa è la rete? E' già nel 99, quindi non c'era, avevamo fatto questo sito in cui centralizzavamo le informazioni, c'era proprio un guestbook che adesso è stato disattivato... Perché visto Fiorella ha detto che non si può scherzare di Grimi, invece... Non è vero, perché Grimi non avete mai sentito criticare qualcuno degli scherzi, delle battute sui telefoni? E la limitazione di Fiorella o a lei che scatola ha fatto? Ma io ho sentito pure Fiorella, ci sono fatti due... Ah, vi siete sentiti? Sì, sì, ma ci sono fatti due... E le foto del battesimo quando potremo vederle? Le foto del battesimo adesso c'è anche quelle foto nude, quelle tipiche foto nude, quelle... Quando sei piccolo piccolo, gambe all'arga, il pannolino... E invece il pizzetto biondo e l'abbiamo ripensato... Quelle hanno offerto tanto a mia mamma, è solo che mi ha detto... Grimi, il pizzetto biondo potremmo riproporlo, che dice? Il pizzetto biondo è messo dopo la mia... Alla prima votazione congiunta di PL 5 Stelle, riproponiamo il pizzetto biondo... Il pizzetto biondo era il primo rientro a casa da Brescia, quando dopo un anno tornavo a casa dai miei genitori, mi sono potuto trovare il pizzetto biondo con un tatuaggio finto nel braccio... Che sera tatuato? Mi ricordo... No, era una stella, una cosa però... Cinque? Già allora? Già allora? No, era un sole, un sole... Però aveva anche un orecchino finto al naso... Finto, di quelli con la calamita... E poi mio padre quando mi ha visto è rimasto sconvolto, sono perso un anno e finito...